Ci sono degli animali, dei cavalli, dei caprete, ognuno ha le sue mansioni, ma soprattutto ci sono le galline, con queste galline che producono le uova, noi cosa facciamo? Le portiamo a Lorenzo, Lorenzo ha un'altra sede a Settimo di Pascancina, dove ci sono queste nonnete che possono progredire, fanno le tagliatelle, fanno tante belle cose e poi le usano anche per loro, per mangiarle. È un posto davvero distensivo, quello dove si trova l'Orto Botanico della Fondazione Lancora a Marzana. Ogni giorno qui si lavora a contatto con la natura che produce, fa fiorire e porta i frutti. Un'attività che rigenera persone che sono state ferite dalla vita e che dal disagio rinascono attraverso la dignità del lavoro. Qui nell'Orto accogliamo persone che hanno avuto una vita un po' difficile e cerchiamo di dargli dei successi, dei successi tramite il lavoro, perché per gli uomini è importante lavorare prima di tutto e abbiamo una parte residenziale dove vivono, veramente ben sistemati, belle casette in ordine e cerchiamo di dare un progetto mirato alle persone, in modo che ognuno abbia un successo proprio personale, che questo le aiuta ad alzarsi di tono e questo le aiuta a dare una prospettiva. Cerchiamo di collaborare con l'ASL, cerchiamo di collaborare con gli assistenti sociali. Attualmente sono sei le persone che vivono qui, ma altre vengono a lavorare durante il giorno, affiancate dai volontari, nuove mamme e sorelle per nuovi figli e fratelli. Praticamente la mia vita era un po' in uno stato di difficoltà, perché mi trovavo sempre in giro, a girare un po' di qua e di là come un vagabondo senza mai fermarmi. E qua praticamente ho cercato un po' con l'aiuto di parecchie persone che pian pianino non sapevo neanche dove sbattare la testa ai primi tempi. Essendo qui in mezzo alla natura, anche la relazione viene facilitata, perché comunque ti togli di tutte quelle finte maschere che ti metti perché sul lavoro deve essere così. Qui comunque loro sono in un ambiente comunque sereno. I volontari che vengono sono fuori dalla loro routine e quindi sono qui per star bene. Questa attività si fonda sulla provvidenza e non costa all'ente pubblico, anzi lo fa risparmiare. I frutti della terra e degli animali arrivano in tavola e vengono lavorati, come le uova impastate, dalle nonne accolte nella casa per anziani di Settimo di Pescantina, un'altra realtà voluta dal sacerdote veronese Don Renzo Zocca, presidente della Fondazione Lancora. Al centro sempre l'obiettivo di far sentire amate e valorizzate le persone.